Sono già trascorsi 15 anni da quando il 12 marzo 2007 il comandante della forestale di Pescara, Guido Conti, scoprì che nell'area Tremonti di Bussi sul Tirino erano seppellite tonnellate di rifiuti tossici. Da lì venne alla luce la più grande discarica d'Europa. 15 anni in cui gli scarti della produzione chimica, tra cui piombo, mercurio e cloruro di vinile, hanno continuato a inquinare le falde acquifere del Tirino, il terreno e anche l'area della zona. Lo ha certificato l'Arta, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, tramite diversi rilevi. In questi 15 anni, mentre lo studio Sentieri appurava nella Val Pescara un'incidenza di patologie riconducibili agli inquinanti superiore al resto della regione, è successo di tutto. I processi, la causa civile ancora in corso, gli scaricabarile sulle responsabilità, benché la Cassazione abbia determinato il ruolo di Edison nel disastro ambientale, e perfino un bando di bonifica, strenuamente difeso dal Ministero dell'Ambiente e poi annullato dallo stesso di Castero, il quale aveva anche temporaneamente e misteriosamente dirottato i fondi riservati al sito di interesse nazionale. E il rammarico è proprio questo, ci dicono dal Forum dell'Acqua, che il Ministero, che doveva promuovere la bonifica, ha in realtà rallentato l'iter dei lavori. Paradossalmente in 15 anni noi abbiamo fatto un po' di più di altri siti, molto poco in più, ma è veramente incredibile, perché per legge i progetti di bonifica devono essere approvati in 18 mesi, cioè esaminati e poi realizzati in qualche anno. Qui passano 15 anni e per esempio per l'area industriale non c'è neanche il progetto di bonifica, 15 anni rispetto a una previsione di legge di 18 mesi per fare i progetti. E questa è una responsabilità, a nostro avviso, del Ministero dell'Ambiente Prima, oggi della transizione ecologica, che è quasi uno stopper delle bonifiche e non invece il promotore, avendone la competenza per legge. A gennaio intanto sono finalmente partite le prime bonifiche, quella dell'area Tremonti, scoperta 15 anni fa, e dell'area industriale di Piano d'Orta. I lavori, come stabilito dai tribunali, saranno a carico di Edison in base al principio che inquina paga. Prossimamente dovrà partire la bonifica anche delle aree 2A e 2B. È presto però per vedere ricucita una delle ferite più profonde d'Abruzzo, che come detto sta ancora sanguinando. Il problema è che non vanno avanti le carte, cioè i progetti, e senza i progetti non si bonifica. Quindi riteniamo che ci vorranno sicuramente molti anni, però se il Ministero della Transizione Ecologica va con questi tempi, ecco le bonifiche ce le avremo tra forse 40 anni, 50 anni.